Sono moltissimi i piemontesi testimone della strage sulle frequentatissime Ramblas che hanno utilizzato i social network per tranquillizzare le famiglie ed esprimere vicinanza alle vittime, agli amici e a tutte le persone coinvolte. E solidarietà è stata espressa anche per iniziativa delle istituzioni piemontesi e dalle 12 di venerdì bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici e mole antonelliana spenta alle 22 di venerdì. Grazie.